Si è svolto a Palazzo Ducale il secondo incontro dei tre conclusivi del progetto Futuriamoci! Prepararsi al cambiamento, percorso formativo promosso dalla provincia e rivolto agli studenti delle scuole superiori. In Sala Tobino si è parlato delle scelte future di studio, dei progetti e delle occasioni di studi all'estero, nonché di nuovi profili professionali emergenti. E proprio su questo argomento sono state chiamate di intervenire tra gli altri la youtuber Silvia Delcarlo, la Delc e il comico Matteo Cesca. Ciao, sono la Delc. Ah no, aspetta, non è un video, scusa. No, sì, non sono nel mio studio. Sì, siamo in provincia a Lucca e oggi vi racconto la mia esperienza e non sono abituata a parlare davanti a tante persone, sono abituata a parlare alla mia camera ma ce la metterò tutta per condividere con voi la mia passione. L'approccio migliore, secondo me, è la sincerità e la trasparenza. Con quella arrivi dritta al cuore. Io vedo che è una carta vincente e se parlo con sincerità della mia passione vedo che arriva e quindi faccio così. Giovani moderni ho già avuto un brivido. No, mi fa piacere perché parlare con i ragazzi è sempre bello, è sempre un rapportarsi diverso e poi parlare del proprio lavoro a loro è sempre una cosa a me diverte e quindi cerco sempre un linguaggio che sia il più vicino possibile a loro. Gli appuntamenti conclusivi del progetto Futuriamoci sono rivolti in particolare ai giovani e alle scuole del territorio e rappresentano un'ulteriore occasione di riflessione sul percorso di crescita, non solo didattica, dei ragazzi, sulla consapevolezza delle proprie scelte e delle proprie azioni anche in base alle passioni, attitudini e inclinazioni dei singoli sia nello studio che nel lavoro.